Jeremy Menetz è ufficialmente un giocatore del Bari. Il fantasista francese ha firmato un contratto fino a giugno del prossimo anno con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie A. Si tratta del terzo volto nuovo in casa biancorossa. Dopo i giovani Faggi e Nasti, Menetz è il primo giocatore di spessore. A 36 anni vanta un curriculum di tutto rispetto, con trascorsi nella Roma di Totti, nel Paris Saint-Germain di Ibrahimovic e nel Milan di Balotelli. Nelle ultime tre stagioni ha militato nella Regina, dove ha giocato 69 partite realizzando 13 reti. È uno specialista dal dischetto. È arrivato ieri sera in ritiro a Roccaraso e da oggi è a disposizione di Mr. Mignani. In ritiro da ieri anche il presidente Luigi De Laurentiis e il DS Ciro Polito, che nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, assisteranno al primo test precampionato contro il Rocca Vivara, formazione militante in prima categoria.